Di nuovo in diretta, pronti a cominciare il fuoricorsa di questo venerdì, andiamo a Larciano, in provincia di Pistoia, dove, come avete visto in apertura di diretta, ci sta aspettando Mirko Frati. Mirko, ben trovato! Buongiorno, buongiorno Emanuele, ben ritrovati! Siamo qua, come dicevamo, come abbiamo anticipato, alla Scuderia dell'Olmo, un posto ormai amico di EFU TV, perché comunque ci sono diversi allenatori, diversi guidatori che hanno qua i cavalli, in questo bellissimo centro di allenamento in provincia di Pistoia, Larciano, e qui è una zona molto cara anche al nostro primo ospite di oggi, perché ormai lui gravita, diciamo, in questa zona, avendo anche casa molto vicino e poi essendo comunque legato al rapporto d'amicizia con Stefano e Edoardo Baldi, che hanno i cavalli qua, e sto parlando di Roberto Barzi. Buongiorno Roberto! Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie dell'invito intanto. Vabbè, è un piacere Roberto, insomma ci conosciamo da tanto, è un, mentre dietro di noi campeggia, campeggiano sia Clivia di Poggio, che dalla sua altra parte il controcanto invece lo sta facendo Day of Glory, è un amico di vecchia data, un gentleman, anche se di vecchia data, ma solo la data, perché comunque sia un ragazzino Roberto. No, insomma, sono anche di vecchia data, dai, 40 anni e pazza si sentano, poi ho iniziato presto a guidare. Eh, ora, appunto, ora ci racconti tutto. Quindi Roberto è comunque ancora, io ti metto ancora nella primavera dell'Ippica, nella squadra primavera. Roberto, ecco, la tua passione per i cavalli quando è iniziata? Come ti sei avvicinato a questo mondo? Noi siamo una famiglia che è sempre stata legata ai cavalli, dal mio nonno, che è stato il primo che ha avuto cavalli. Prima l'aveva addirittura a sella e poi l'ha avuto al trotto. Il mio zio Paolo Bindi, anche lui, gente, ma ha sempre, ha sempre, anche lui, da giovane, diciamo, saltava, salta ostacoli, poi anche lui si è avvicinato al mondo del trotto. E nel periodo che guidava maggiormente, io ero all'età che avevo 15-13 anni, mi piacevano le corse, avevo sempre con lui, una corsa tira l'altra, vinceva e mi sono appassionato a questo mondo. Non vedevo l'ora di prendere la patente, gente, ma di 18 anni per poter iniziare a correre. Il fare il corso, eh? Sì, sì, l'aspettavo in gloria proprio. Quindi seguivi il zio Paolo Bindi, appunto, che ricordiamo, sempre ancora bene in attività, con i cavalli che ha in diverse scuderie, da Mauro Baroncini, da Prinz Midra, da Manuel Matteini, ha avuto anche, insomma, cavalli che hanno fatto delle belle soddisfazioni. Si è tolta anche lui e quindi seguendo lui, poi, quando si va all'ipono, è un discorso che facciamo spesso con le persone con cui parliamo, però, una volta che poi avvicini un cavallo, è difficile, poi... Eh sì, poi, quando ti avvicini al cavallo, ti entra nel sangue e ti ci rimane. La passione può un po' scemare, ma non va mai via. Ora, io a un periodo sto correndo poco, per via della famiglia e del lavoro, però la passione c'è sempre. Io penso che una volta cresciuto, perché ho due figli piccoli, ho detto, ma devo stare un po' dietro alla famiglia, una volta che si sono indirizzati e cominciano l'età, di ributtarmi. Ripartire a testa bassa. Tanto l'età, una grafica, mi sento giovane e quindi si va. È giusto, è giusto. Ecco, ma quando eri, appunto, più piccolo e seguivi lo zio, poi, ti è venuta voglia di attaccare un cavallo? Come è andata la tua prima esperienza con i cavalli? Sì, io mi ricordo, no, prima di tutto comprai un cavallo. Prima di cominciare a, magari, attaccare qualche cavallo? Sì, comprai un cavallo, un cavallino facile. Il primo? Era proprio qui, da Antonio Greppi, come allenatore. Ok, chi era? Era, io comprai Utter dell'Ete, pensate un po', si parla di vent'anni fa e passa. Eh, sì, 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 sì. Comprai lui e mi ricordo il primo attacco lo feci con lui. Era tempo, andavo sempre a scuola e mi ricordo venivo qui in giugno, luglio, agosto, un motorino, perché io sto qui a... Eh, a Stabbia. Sì, a 10 km neanche. Quando ero in giugno a scuola, tutte le mattine, dal lunedì al sabato, attaccare il cavallo. E quando si sale dopo? E poi, bravo. Con fermi, no? Sì, una volta partito puoi mettere difficile. Vuoi sempre, vorresti sempre attaccare un cavallo. E quindi, ecco, questo è un posto comunque a cui sei legato, perché è il primo posto dove hai attaccato un cavallo, che poi il cavallo con cui hai a che fare per la prima volta sembra, ma ti aiuta, no? Perché se magari è un cavallo bravo, che non ha grossi problemi, ti fa ancora piacere di più quello che stai facendo. Sì, a voglia, perché poi un cavallo facile ti fa sembrare tutto facile, tutto bello, e quindi una volta che prendi confidenza, prendi via, non vorresti più permettere. Ovviamente poi, quando si va in corsa, le cose cambiano, no? Le cose cambiano, però, insomma, è bella anche la primaverina della corsa, eh? Certo, certo. E ovviamente, poi ne parliamo, Roberto. E quindi, alla maggior età hai deciso subito di... c'era la possibilità di fare il corso? Sì, alla maggior età ho preso i colori, aspettai... La tempistica, la burocrazia? L'uscita del corso, mi sembra... Io lo feci perché avevo vent'anni, il primo che uscivo. Subito. Subito, sì, sì, sì. E della tua leva, insomma, ci sono ancora i colleghi con cui, ovviamente, hai fatto insieme il corso? Sì, sì, ho fatto il corso con Piera Lorenzo Alessi, Monica Gradi, insomma, era bella o non Sì, sì, una bella nidiata, era dei bravi gentlemen. Sì, sì, sono dei bravi gentlemen. E quindi, poi, insomma, un altro gentleman ce l'abbiamo dietro di noi, è lì che sta supervisionando il tutto e ovviamente parliamo. Lui è più vecchio, lui l'ha presa prima di me. Un gesto di amicizia, un saluto, eccolo qua, Stefano Baldi, che è stato ovviamente un un altro gentleman, insomma, un gentleman toscano che ha fatto il corso, vabbè, non il tuo corso, però, ecco, però, ecco, sia tu che Stefano, appunto, fate parte, ormai, ora, da quando poi siete gentleman, ora siete anche consiglieri del gentleman club toscana, no? Sì, no, no, siamo consiglieri, ora è già due mandati che siamo consiglieri, ora, a che ci saranno delle elezioni, diciamo, un po', se si fa a posto, diciamo, alle nuove leve o se ci tocca continuare a noi questo lavoro. Che dici, Stefano? Rinnoviamo un po'. Quindi sei per il rinnovamento? Ma sì, se qualcuno vuole, faccia avanti, noi siamo disponibili. Come gentleman club, comunque, siete, appunto, abbastanza affiatati, no? Perché vi vedo, insomma, sempre pronti con delle belle iniziative. Come vi trovate, come ti trovi con i colleghi toscani? No, bene, bene, con i colleghi toscani, bene. Abbiamo un presidente, Daniele Orcini, molto attivo in tutto la Federnat, ci fa una grossa mano, fa tante cose, perché, insomma, abbiamo fatto tante manifestazioni a Sobbenetro. Infatti, quello che volevo chiedere, insomma, mi sembra abbastanza. Quello è bene e poi abbiamo anche vari consiglieri insieme a noi che, insomma, si danno molto da fare, non sembra, ma dietro le quinte lavorano sodo per il Tebber. Quindi, insomma, sono proprio soddisfatto. Invece, in pista con i colleghi toscani, come ti trovi? Qualche sportello, insomma, vi divertite? Oppure perché Stefano, quando gli abbiamo chiesto, ogni tanto ci ha raccontato, ora sta facendo finta niente, ma qualche sportellata, qualche amicizia, insomma, ci può essere anche fra i colleghi toscani. Ma io farei bene a ondare le sportellate, perché, insomma, l'ultima volta, se lo ammetto fa, feci un bel volo, quindi evitiamo di parlare di queste cose. In effetti, il povero Roberto, insomma, lì è stato un momento un po'... perché si parlava prima, no? Quando vai in pista, l'adrenalina comunque della corsa ti piace. Sì. Tu hai detto che non vedevi l'ora di guidare quando hai preso la licenza, poi quando si va in pista, ovviamente, sembra, bisogna stare un po' più attenti, no? Ci sono tanti fattori. Ecco, per uno come te che dice che comunque in pista gli piace andare, piace guidare e avere, sentire l'adrenalina della corsa, quando è successo quel brutto episodio della caduta, poi come l'hai vissuta, Roberto? No, dispiaciuto per, insomma, per il collega che, insomma, volendo, non è lente, meno male, non è cascato, però, insomma, davvero disturbato. E poi, sono sincero, io non ho avuto traumi, dicendo, della paura dopo a rimontare, no. Ah, ok. Ho aspettato, insomma, per il guarire un po' dei feriti, un paio di mesi che ho voluto, però non è che la volta dopo per montare ho avuto paura, anzi, era come se nulla fosse successo, quello sono sincero. Ricordiamo, appunto, per chi magari non l'ha seguito, non lo sapesse, un quanto tempo, sì, un anno, un anno, un anno e mezzo fa, a Firenze ci fu, insomma, una brutta caduta nel gruppo e quindi, sai, quando sei convolto in queste situazioni magari ti può scattare qualcosa nella mente. Però, ecco, da parte tua c'è sempre la passione, la voglia di guidare. Sì, e sarà quello che forse mi ha fatto più sentire la paura dopo per rimontarci. Ah, ok. Quindi, dopo quella sei ancora più agguerrito? Sì, sì, no, quella non mi ha scalfito, diciamo, sicché andiamo in pista sempre come sempre. Ecco, da quando poi hai fatto le prime esperienze, ormai sono passati 20 anni, però, piano piano, qualche cavallo, ecco, come hai continuato dopo poi il primo cavallo che hai comprato? Ma sai. Come è progredita la tua storia? Ma sai, all'inizio la mia storia era molto più da proprietario che da genitima. Ti piaceva? Sì, io i primi anni ero un genitima che correva molto poco, mi ricordo la prima vittoria la feci dopo quasi due anni che avevo preso la licenza, però ero molto proprietario, mi garbava, comprai un cavallo, che sempre era un cavallo discreto come Zucchero Day, che mi spinse ancora di più in questo mondo, poi, insomma, poi i cavalli li ho avuti, insomma, ho avuto un pesce. Insomma, ci sono un po' di, un po' di cavalli nel tuo percorso che magari ti rimangono nel cuore che ti hanno dato su di… Il generatore è un grande amico, siamo stati tanto insieme, poi le cose cambiano, i cavalli sono meno, insomma, però, insomma, lo ringrazierò sempre per quello che mi ha fatto, perché mi ha fatto divertire tanti anni. Eh sì, la X-Y e le T-AB, tra l'altro è una storia un po' particolare, no? Eh sì. Se la vuoi raccontare… Ora, non era mia a quei tempi, però era una cavalla che da puledra fu schiacciata da, diciamo, in allevamento da un trattore, sembrava non dovesse più correre, invece poi ieri la provò, la domò, la attaccò e la cavalla non ne risentiva. Poi cominciò, mi ricordo della prima volta, quando ero ieri, era una valla da corsa, poi ricominciò l'Evaferri e fece una suite di sei vittorie con l'ultimo, la sesta vittoria al Gran Premio a Taranto. E io mi ricordo la comprai a fine dei quattro anni, inizio dei cinque, e con me ha fatto tutto da anziani fino a… È stata una cavalla indistruttibile, diciamo, poverina, dopo il piccolo… il brutto incidente che ha avuto all'inizio, anche lei magari da quella cosa è risorta, no? È calco che a 11 anni ha vinto il paio di proprietari a Napoli, al dicembre di 11 anni, che poi qui con le regole italiane sembrava dovesse smettere dopo 20 giorni, lei è riuscita sempre a vincere un paio di proprietari rendendo 20 metri… No, non è una cosa, non è una cosa facile… No, no. Non è sfortunato, eh? Cosa dici Stefano? Non è sfortunato. Non è Roberto, eh? No, no. No, no. Ma quello che ci lega soprattutto è l'amicizia. Sì. Nel rapporto né di lavoro né di cose, è proprio un'amicizia che dà tanto con la famiglia Baldi, perché insomma… Prima di tutto… Sì, però stamani la colazione non l'ha portata, è due mesi che non lo vedo… Pensiamo di trovare la fiducia, infatti, perché se mi ha trovato… Eh, succede, non so… Diciamo se si rifà col pranzo. Dici col pranzo? Diciamo se si riprende, da ultimo. Eh, vediamo, dopo c'è ancora tempo, ci sono ancora 400-500 metri, ci sono ancora da tirare un po' di fili. Qualche filo. Dice, insomma, che sono cavalli che ti hanno… che ti hanno comunque… Ecco, andando avanti nella storia, magari chi sono i cavalli che magari ti hanno dato… Che ricordi con… Ora, il cavallo che ho ancora virtuale è un cavallo che… Sicuramente. Sono legato… L'ombraic che aveva, mi sembra, due anni. E quindi è con te da sempre, quasi sempre. È sempre da me, è un cavallo che sono legato e che… Sono sincero, me l'hanno chiesto in tanti, ma non ho mai voluto vendere, proprio per quanto sono legato a lui, perché mi ha dato tanto, un cavallo poi… Ci ho vinto tanto, quindi un po' di rispetto glielo voglio portare. E dicevamo anche… Praticamente questa intervista con Roberto e con Samuele in teoria dovevamo farla. Se ti ricordi Roberto… Ah sì. L'anticipazione del Federnat dove sia tu che Samuele eravate insomma in Lizza per… Per fare il Federnat e ci fu purtroppo quella… Quella bruttissima… Quella bruttissima… Quella bruttissima giornata, anzi più di una giornata che… Sempre… Quando… Il cavallo va fortissimo, però… Basta che non ci salga io, se hai detto. Perfetto. Quindi… Guida a Di Nardo… Vado di tutti i giorni, quanto io… Cavallo che non va. È così ormai… Quindi ecco… Mi ha preso un po'... Ti sei un po' scoraggiato? Oppure ci riproverai nuovamente? No, un po' scoraggiato mi sono, però ci riproverò. Vediamo, vediamo un po'. Ecco, virtuale che appunto, come diceva, si trova da Gennaro Casillo insieme a un altro cavallo che comunque fa parte della storia recente, però Roberto è un cavallo che sembra un cavallo curioso, no? Sì. Questo Evanti Spritz. Sì, è un cavallo che abbiamo comprato prima delle ferie, l'ho comprato perché avevo… Io non volo no una scudria grande, ho due cavalli, tre… E l'ho comprato perché avevo dato misera a fatto male un cavallo come Tinto e le l'ho regalato. un cavallo importante. Sì, Tinto comunque era un cavallo che… Un cavallo importante, divertente. E poi allora ho comprato il cavallo e ora piano piano Gennaro insomma è riuscito a farlo uscire e viene da due belle… Molto. Tre belle prestazioni perché c'è anche dentro… Sì, anche là è vero. Insomma arriva quinto, è vero, ma arriva vicino a cavalli come Euloget, quello svedese che fanno buono di goccia d'oro, insomma Euloget la settimana dopo vinse il Gran Premio, quindi in senso la linea era buona. Ha fatto delle… è un cavallo che aveva fatto vedere da Puledro con Sarzetto che un po' di mezzi ce li poteva avere, però insomma il lavoro è stato bello, è stato un buon… insomma hanno fatto un buon lavoro Gennaro. Gennaro ha fatto un buon lavoro, infatti lo devo ringraziare. Per Avanti come siamo messi? Tipo virtuale oppure con te… Ma Avanti l'ho guidato una volta sola a Follonica, però era un rientro, era due mesi che non correva, quindi proviamo ora a guidare l'ora che sta andando e vediamo cosa succede. Stai dicendo se non influisci più di tanto. Speriamo bene, dai, che almeno lui mi renda. Allora, appunto ora ti stai dedicando un pochino meno alla guida, per chi appunto non ti conoscesse, ricordiamo anche quale… insomma tu sei un imprenditore, quindi avete un'azienda di famiglia, no? Con anche lo zio Paolo… Siamo in una società, era della famiglia, mezza del mio zio e mezza della mia mamma, ora la mia mamma si è ritirata, sono entrato io in una società con mio zio, quindi il tempo ora è un po' meno. Poi una famiglia, due bimbi, una di diciamo quasi sei anni e uno di tre, quindi il tempo me lo portano via loro. Quando ho un po' di tempo libero mi piace anche passarla in famiglia. Certo, certo. E ecco, l'azienda di cosa si occupa? Di calzature. Di calzature, quindi… Eh, vorrete fare le scarpe a tutti, praticamente. Eh, è vero. E quando… ecco, a parte dicevi la famiglia, ma a parte l'ippica hai… magari hai qualche altra passione, qualche altro interesse, un po' tifoso qui siamo tutti… Si va a finire sempre nel calcio, però il calcio… Perché c'è Emanuele che ci ascolta, poi ora sicuramente ti vorrà chiedere qualcosa in ambito ippico, calcistico forse non lo so, però ecco, te e rispetto a tutti quelli che ho intervistato di recente, che sono quasi tutti della Fiorentina… Ah, no, te l'ho inventata anche… E poi abbiamo degli intervisti, muretti, monte… E io invece favo parte… Un'altra posta di Milano… Ok, quindi tu sei un po', quindi non ti senti di sbilanciarti… No, 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 mi sbilancia tanto… Emanuele, abbiamo qui appunto… per te, se vuoi fare una domanda a Roberto… Ma certo, no, no, Roberto ormai è… Io l'ho visto debuttare, si può dire, Roberto, perché ormai mi ricordo a Tordivalle quando veniva ogni tanto, sempre con Chance Mirate, Cavalli, se non mi ricordo mai te li preparava Enrico Bellei? Mi ricordo male, Roberto, non vorrei fare confusione… Ho avuto anche Cavalli da Enrico… Mi ricordo che comunque… Devo dire che tra i giovani di quella leva là sei uno dei più sicuri in sulchi, perché non è mai semplice… Poi ricordiamo, vedere le corse da fuori sembra semplice guidare, no? Ma stare in sulchi poi è completamente diverso… Delle volte senti… E' anche un po' il bello dell'Ippica, no? Tutti si sentono guidatori, tutti avrebbero una soluzione a tutto dopo le corse… Ma perché ha guidato così… Ma stare in sulchi è difficile… Non è un motorino il cavallo, capito? Che acceleri, levi e dai il gas, sterzi, giri, fermi… Cioè è difficile… Stefano Baldi, che è un altro gentleman sicuramente con più esperienza di Roberto… Eh sì, non ci senti ma comunque… Ce lo potrà confermare, insomma… Si sta dicendo Emanuele che sei comunque un gentleman d'esperienza… No, però direi anche tutto il discorso… Però i cavalli comunque non sono… Non sono motorini… Non sono… Non sono… Non sono… Non sono… Non sono cavalli… Non sono… Scusate, è cascata la cosa… Insomma, diceva Emanuele che poi quando un conto è da fuori parlare delle corse… È un conto essere in pista e comunque con i cavalli non è mai semplice… Anche se dall'esterno magari può sembrare… Ma comunque i cavalli sono… Insomma, non sono macchinine… E quindi hanno le loro… Le loro… Ci sono delle difficoltà, no? Nell'interpretazione… Anche se tu comunque hai un bel po' di esperienza… Sì, mi avete dato di vecchio praticamente… Comunque è vero perché tante volte… Io prendo un esempio che ho più vicino tipo Edoardo, no? Magari c'è una corsa che non è andata come avrei voluto… Mi viene… Mi verrebbe di dirgli ma perché non hai fatto… Poi dopo mi mordo la lingua perché… So quanto è difficile… E credetemi che è difficile… Passare le decisioni sono un attimo di secondo… Non è che puoi pensarci tanto… Un attimo di pensare e eseguire… E soprattutto posso dirvi una cosa e ve lo do per certo… Tutti i driver secondo me anche a caldo sanno di aver sbagliato… Poi c'è chi reagisce non parlando… C'è chi reagisce magari alzando la voce… Per difendersi… Perché magari la miglior difesa è l'attacco… Però un driver sa benissimo quando ha sbagliato… Però come diceva Roberto è questione di attimi… Delle volte… Io l'unico devo dire… L'unico che comunque sia ho visto… E mi piace ricordarlo… Ecco ho ascoltato… Perché io anche nel dopocorsa soprattutto… Io non vado mai a stuzzicare il guidatore… Assolutamente… È una cosa proprio che non va fatta… Perché a caldo poi… Dopo… Può succedere sempre tutto… C'è chi dice vabbè ho sbagliato… C'è chi ti può mandare pure a quel paese… Ognuno è fatto a modo suo… Però devo dire… L'unico guidatore… Professionista gente… Che dopo la corsa… Che è successo più di una volta… A caldo… Ancora sul cavallo… Mi ha detto… Cacchio ho sbagliato… De maniera ho sbagliato… Che cavolata che ho fatto… Roberto Andereghetti… E questa era anche la sua grandezza secondo me… Roberto che è scomparso da poco… Un guidatore veramente… E anche lì forse era la sua grandezza… Uno di quelli comunque sia… In un mondo dove spesso… Se ne vedono… Se ne sono viste… Mettiamola così… Di cotte e di crude… Lui aveva sempre la sua linea… Un guidatore onesto e pulito… Devo dire… E anche in quello aveva qualche cosa in più… Roberto… Purtroppo… Purtroppo non c'è più… Però… Mi fa piacere ricordarlo… Adesso è venuto fuori… Purtroppo sì… È giusto… No certo… Roberto Andereghetti… È sempre nei cuori di tutti noi appassionati… Stefano e Roberto… Sicuramente lo ricordano… Con grande affetto… Perché era una persona speciale… Speciali sono anche Roberto e Stefano… Che ringraziamo… Perché anche con il supporto e l'aiuto di Stefano… Possiamo sempre… Venire qui… Alla Scudegra dell'Olmo… E tra poco… Andremo… Sotto la tettoia… E tra poco… Ringraziando Roberto… Che aspettiamo nuovamente in cozza… Andiamo a parlare… Come si direbbe il milanese imbruttito… Con il proprietario della baracca… Siamo con… Con Samuele Querci… Che… Buongiorno… Il proprietario dell'allevamento… Ci troviamo all'interno della… Della Clubhouse… Chiamiamola così… Chiamiamola così… No, Clubhouse… Perché comunque… Appunto… C'è una bellissima struttura centrale… All'interno dell'allevamento… Che ci sono… Che poi magari vi facciamo vedere… Durante… Durante appunto… La chiacchierata con… Con Samuele… Che è un… È un posto veramente… Fantastico… Oggi la giornata un pochino… Un pochino grigia… Ancora non siamo riusciti a azzeccare… La giornata giusta… Mi piacerebbe far vedere fuori… Comunque abbiamo già fissato… Che prossimamente… Che prossimamente… Che prossimamente… Quando ce la faremo… A trovare una giornata giusta… Perché mi piace far vedere… Tutte le iniziative… Che ho un po' organizzato… Sì… Tra… Volevo fare le piscine per cavalli… Le piste… Insomma… Mi piacerebbe… Far vedere un po' tutta… Ma noi torniamo… E ti ringraziamo… Anzi… Come dicevamo prima… Con Samuele… È sempre stato disponibilissimo… E ci ha permesso di venire… Un pochino… A raccontare… Anche i vari professionisti… Le storie… Che sono… Che sono… Appunto qua… Ospiti del… Del suo centro… Però anche lo stesso Samuele… Che… Appunto… Gestisce… Questo allevamento… E… Fa parte… Anche lui… In maniera attiva… Anche… Della… Della parte… Ippica… E delle cose… Perché comunque… Certo… Della parte… Dal mio nonno… Che era il babbo… Della mia mamma… Che andava sempre… A Firenze… Alle corse… E da lì… Il mio babbo… Eh… Un giorno… Andarono alle corse… Da quel giorno lì… Uno è più smesso da andare… Praticamente… Poi… Eh… Questo l'ho anche raccontato… Un giorno… Quando… Inzi… Una corsa… Un'intervista… Dopo corsa… La pregazione… No… Feci praticamente su Facebook… Ah ok… Ho voluto fare questa… Eh… Dissi questa cosa… Perché… Praticamente… La Scuderia dell'Olmo… Sì… È nata… Eh… Tra il mio babbo… E un suo amico… Riccardo Freschi… Ok… E il nome… Della scuderia… Il nome della scuderia… Scuderia dell'Olmo… Che è sempre rimasta così… Eh… È perché… Praticamente… Tutte e due erano… Sono sempre stati amici… E… Purtroppo… Questo… Riccardo è morto… E… E tutte e due… Anche ora… La famiglia… I miei babbo… I figli di Riccardo… Abitano tutti in via dell'Olmo… Sì che… Praticamente… È nata la scuderia dell'Olmo… Sì… È nata da lì… Poi dopo lui smise… Mentre il babbo… Ha continuato… E… Tu andavi all'ippodromo… Sì… Da piccolo… Da piccolo… Difatti… Volevo fare anche… Non l'ho fatto… Una ricerca… Però voglio fare una ricerca… Di quando sono stati… Perché ci si sta avvicinando… Al cinquantesimo… Al cinquantesimo… Al cinquantesimo… Al cinquantesimo anno… Della scuderia dell'Olmo… Quindi vorresti anche fare una bella… Certo… Certo… Vorrei fare una celebrazione… Però ecco… Non è mai da poco… No… Cinquant'anni di scuderia… Cinquant'anni di scuderia… Non è da poco… Non ce ne sono tante… Non ce ne sono tante… Quindi possiamo dire ormai una scuderia storica… Bravo… Bravo… Non siamo mai stati tanti… O nel senso… Quei cavalli… Non abbiamo mai avuto tanti cavalli… Magari… Prestigiosi… Prestigiosi… Ok… Diciamo… Perché… Io… I miei babbo… Cioè noi se si vince una corsa a reclamare… È come aver vinto in lotteria… Uguali… È la passione… Certo… E in più… Come dico sempre… Una… Una questione di hobby… Una passione… Uno c'ha due, tre cavalli… A pensione… E può essere un hobby… Invece noi insomma… Abbiamo fatto un po' impresa… Sì… Noi abbiamo fatto un po' impresa… Nel senso… Con il centro di allenamento… C'è stato dei momenti… Ci sono anche 20-30 cavalli… Un e più… Non sono più quei tempi… Non sono quei tempi però… Però… Nel senso… Da… La sola passione… Cioè… Bisogna gestire… La situazione… Un po' anche imprenditoriale… Perché se no… Certo… Si fa dei disastri… Quindi ecco… Mentre ringraziamo appunto… Paola che ci sta facendo vedere… Sì… All'interno della… Appunto della… Della… Della clubhouse… Insomma ci sono trofei… Ci sono… Stiamo girando proprio nel… Nel salone… Ogni tanto… Sì… Ogni tanto… Pensa che qui… Pensa che qui… Quando abbiamo comprato… Questo era il fienile… Perché prima… Ora ci sono le rotoballe… Sì… È stata… L'iniziativa… Per fare… Festeggiamenti… Quando si vince il Gran Premio… Festeggiamenti… Se ne fatti pochi… Insomma… Io con Pascia all'Est… Mi sono difeso… Però come Scuderia dell'Olmo… Dell'Olmo… Quindi ecco… Ecco… Da quando hai iniziato… Poi appunto andare alle corse… Ma quando avete deciso poi di… Appunto avete comprato qualche… Abbiamo comprato… Passi cavallo… Il mio babbo si sente male… Gli viene un problema… E allora… Con questo Riccardo dice… Quando ti rimetti… Si compra subito un cavallo… Ok… E partirò subito comprando… Secondo me nel modo sbagliato… Comprarono subito una fattrice… Comprarono subito… La fattrice… Dagli lo stallone… Deve nascere… Deve domarlo… Insomma… La strada è lunga… Ci passa un po' di tempo… Ci passa un po' di tempo… E magari… E magari… Poteva fare oggi… Fa Roberto Marzi… Certo… La cosa più… Parti da lontanissimo… Bravo… La cosa più semplice sarebbe stata… Un cavallo in corsa… Un cavallo in corsa… E cominciare subito… Proprio una fattrice… Proprio una fattrice… Perché ricordiamo appunto che… Samuele appunto… Essendo… Oltre proprietario appunto… È anche allevatore… Perché ci sono cavalli… Certo… Allevati da voi… Sì… Abbiamo avuto un periodo… Dove ci siamo anche… Una decina di fattrici… Ora… Però… Io dico sempre… Sono cose diverse… Cioè… Tra l'allevatore… E il proprietario… Sono cose diverse… Bisogna avere un po' di… Di caratteristiche… Noi non abbiamo le caratteristiche… Di allevatore… Perché… Un allevatore… Fa… Fulidri… Per vendere… E invece tu li fai… Invece noi si fanno… E si tengono… Se all'allevatore gli rimane un cavallo… E lo deve domare… Perché magari… Gli viene un cavallo buono… Lo vende… Io… Se mi viene un cavallo da corsa… Non lo vendo… Non lo vendo nemmeno… Ma forse è proprio per come è iniziata la vostra storia… Siete partiti da una fattrice… Siamo partiti da una fattrice… Proprio nel modo… Proprio nel modo sbagliato… E il fatto che comunque vi affezionate… Sicuramente… Dio sangue… Anche ai cavalli… Certo… Anche perché sinceramente… Il massimo della soddisfazione è il puledro… Perché ti nasconde dietro il sogno… Di realizzare una cosa… Ti fa sognare… Ti permette di sognare… E poi addirittura… Noi ci siamo levati tantissime soddisfazioni… Che ci si aveva un cavallo… Penwood… Penwood… Che andavo in razza… Certo… E' sempre fatto con le nostre fattrici… Fattrici… Che avevano visto a malapena… La pista… Ha sempre fatto… Ha sempre fatto del bene… Sicché praticamente… Qui abbiamo anche la stazione di monta… Sicché è proprio fatto proprio in casa… Cioè dalla monta… Fino al prodotto… Cioè andare dietro una macchina… Cioè andare dietro… È un grande percorso… È una soddisfazione… Una cosa… Si parte proprio con Samuele… Dall'allevamento… Come avete sentito la storia… Il primo cavallo che hanno comprato… Non era un cavallo da corsa… Ma una fattrice… Una fattrice… E' proprio iniziato… Con una fattrice… E quindi… Hanno seguito tutto il percorso… Quindi avevate… Queste… Dalla prima… Poi sicuramente vi siete… Certo… Ampliati… Ma a te… Poi… Quando ti è venuta poi… L'intenzione… La voglia di… Da subito… Come Roberto… Da subito… Da subito… Io praticamente tutti i sabati… Dove mio papà… Andavamo sempre… A vedere… Fare prove… Cavalli… Al Cintolese… Quando ci serveva… Cavalli da Roberto Benedetti… Poi dopo… Abbiamo avuto… Cavalli da Enrico… Che è stato qui… I primi frustini… Enrico… L'ha vinti qui… L'ha vinti… E… Io tutti i sabati… Anche se la sera… Di venerdì… Da ragazzo… Davvero a ballare… Nel senso… Io venivo direttamente… In macchina… Subito… In scuderia… Un grandissimo divertimento… L'ho provato… Quando ci avevo… Cavalli da capanna… Ecco… Capanna… A quei tempi… Era… Era magico… È vero… Era magico… Era… Mentre… I vostri… I nostri amici… Si stanno spostando… Nelle altre… Nelle altre… Stanze… Ci sarebbe la… La conference… La conference room… Dove… Per decidere dove andare a fare i Gran Premi… Ancora… Però non è che… L'abbiamo sfruttata più di tanto… E comunque… E comunque appunto… Quindi da… Sin da subito… Quanti anni sono ormai… Che sei… Che sei gentile… Io sono… Dal novanta… Dal novanta… Dal novanta… E mi ricordo sempre il corso che abbiamo fatto… Siamo divertiti tantissimo… E la prima volta che ho corso… Ci hanno dato la licenza… Sì… E io… Manno… Abbiamo preso la macchina… E siamo andati a Roma… Per ritirare la patente… Perché… Ci eravamo… Ci hanno dato i partenti… Ok… E la prima corsa che ho fatto… A Firenze… Con FIWOOD… L'ho vinta… Ho vinto subito… Subito… Quindi… Io primo… E lui secondo… C'ho sempre l'articolo a casa… Cioè… La trio… Pagò… 12-13 milioni… Pagò… Delle vecchieline… Delle vecchieline… Cioè… Una cosa… Hai iniziato subito… Subito alla grande… Dicò è facile così… E poi dopo… Però invece… Come ne parlavamo… Come parliamo poi con i nostri amici che guidano… Quando vai in corsa… Cioè… Ti piace… Si… Cioè… Si sente l'adrenalina… Si sente molto l'adrenalina… E… Devi anche un po' contrastare questa adrenalina… Perché bisogna che uno sia un po' concentrato… Tanti un po' si fanno prendere un po' troppo da questa adrenalina… Specialmente all'inizio… Insomma… Perché è un po'… Bisogna stare attenti… Eh… Perché… Io sono cascavo diverse volte… Sono cascato… E poi… Succede… Succede… Però non ti ha mai… Come parlavamo prima anche con Roberto Bazzi… Non ti ha mai intaccato… No… Mi ha intaccato una volta… Si mi intaccò… Perché… Cioè nel senso come… Ti ha segnato… Cioè ti ha fatto… No… No… Assolutamente no… Assolutamente no… Però una volta cascai a Montecatini… Perché mi saffocò un cavallo… Cascai… E mi si lupo un polso… Mi hanno dovuto operare… Sono stato un po' fermo… Però la passione va oltre… No… Vedevo… Cioè era uguale… Venivo a far prove quando c'avevo il gesso… Non c'era proprio il problema… Ecco… Comunque qualche cavallo che… Magari come scuderia… Come… Comunque che ha fatto qualche risultato… Si… C'è… Si può… Si può dire… Ovviamente ci sono stati i mari cavalli… Non da te allevati… Che però avete deciso poi di acquistare… Si… Che hanno fatto… Allora… Ti spiego… Io sono nato… Cresciuto a Campi Bisenzio… Il mio babbo… E… Campi Bisenzio… Campi Bisenzio… Ricordiamo che insomma… Qualcuno… Che… Che… Ippica nonostante Campi Bisenzio sia piccolina… No… Campi Bisenzio è… Cioè… È una fabbrica… È una fabbrica di impici… Specialmente degli anni Ottanta… Cioè io sono stato… Io sono… E sono stato amico di Manuele Matteini… Manuele Matteini di Campi Bisenzio… Ma indipendentemente dai cavalli… Cioè… Cioè… Stava di casa vicino… Cioè era sempre un motorino insieme… Fin da piccoli… E… Quindi dicevi che a Campi Bisenzio… E a Campi Bisenzio… C'è… C'è un fulcro ippico… Nel senso… Lì c'è l'Università di Trotto… Eh… E di fatti poi dopo… In… Altre situazioni… Mi sono… Eh… Anche avvicinato… Abbiamo un ristorante insieme a Leonardo Cecchi… Certo… Che… Lui è proprio… Numero uno in assoluto… Già da appassionato… Grandissimo appassionato… Conosce tutti i cavalli… E con lui mi disse… C'aveva questo Pascia all'Est… Che dice… Guarda ce l'ha… Insomma… Mi fece entrare a far parte… Di questa… Di questa società… Perché… Abbiamo girato tutti Europa… Una soddisfazione immensa… Ed ora… Eh… Proprio ultime… Ultime notizie… Ecco… Quindi vi parliamo anche delle notizie… Siamo a posto… Qui a posto… Esatto… Un cavallo velocissimo… Non è un cavallo che riesce a costruirsi tanto la corsa… Nel senso… Gli deve un po' venire… Perché… È uno sprintista… Sì… È un po' sfortunato… Ora… L'abbiamo segnato anche… Al… Sì… Stamattina è stato dato partente… A Bologna… Domenica Bologna… Domenica… Domenica B… La categoria B… Della categoria B… Lo dobbia guidare Alessandro… Sì… Alessandro… Perché è una corsa anche… Eh… Diciamo… Per vedere le condizioni del cavallo… Perché ci dovrebbe essere una corsa… In Francia… Quindi, insomma, Pascialest è sicuramente un cavallo che ha segnato da proprietario la tua esperienza. Quanto però ci sono stati anche i cavalli che ti ricordi con... Io gli ricordo tutti, gli ricordo. Se affeziona non ne venderebbe uno. Io mi ricordo per esempio una cavalla, proprio che sono andato direttamente io col van a prenderla all'aeroporto a Malfensa, Keston Lula, poi dopo i cavalli minori storici erano Feawood, Glynitz, Gove del Pino, Napaleffe, il guerriero, Penwood. Ultimamente, per esempio, che ha vinto anche un gran premio con Enrico, Libertadolm. Libertadolm, che tra l'altro è allevato da te. Proprio fatto in casa, proprio da una fattrice, che era figlia di Penwood. Che è proprio... Tutto fatto in casa. Per Samuele appunto, allevamento. Poi i cavalli corrono, insomma, in corsa, lui è gentleman, quindi li guida. E quindi un percorso proprio totale. Adesso hai appunto un cavallo da Quantrol, ce l'hai da Alessandro. Sì, c'ho un paio di cavalli da Alessandro. Poi dopo c'ho un puledero, ce l'ho qui da Stefano. Poi c'ho tre cavalli, quattro, tre barocalli, che li gestisco un po' da me. Perché ti piace lavorare i cavalli. Mi piace anche perché io da campi, ora abito qui a Ponte Bugianese, io in dieci minuti sono qui. Sei sul posto. Perché io tutte le mattine passo da qui. Se c'è da attaccare, da far provare. C'è da fare qualcosa, non ti tiri certo indietro. Sì, sì, sì. Mi piace fare l'allenatore. Ti piace? Sì, sì, sì. La gestione del centro comunque è complessa. Molto, molto complessa. È molto complessa perché anche i momenti sono un po' difficili. Sono momenti difficili. Come le dicevamo quando dovevamo fare l'intervista con te e Roberto Barzi, prima del Federnat dove avevi appunto Bardo Di Poggio che è rientrato ieri e poi vedremo prossimamente con te. Ci fu appunto quella triste giornata brutta anche questa settimana per tutta la Toscana. e oggi, grazie al cielo, la giornata è sempre un pochino curiosa. Se tu vedi, basta vedere dalla finestra, si vede le cicatrici che c'è il fosso lì. Lì c'è un fosso. Sì, andiamo, lo facciamo vedere. Che praticamente era stato buttato completamente giù. Sono stati due mesi a rifarlo. E quindi, insomma. Qui aveva allagato tutto, aveva allagato. La passione però ti fa andare avanti. No, certo, ci fa andare avanti. La passione ci fa andare avanti. E quando tu hai questa passione qui, nel senso, non puoi nemmeno, ce la devi mettere tutta. Ce la devi mettere tutta perché purtroppo o le cose vanno bene o le cose vanno male, i cavalli devono sempre stare top perché hanno da correre. È giusto. È giusto. E quindi questo ti fa sicuramente onore. Ovviamente, appunto, sei un gentleman che ha investito tanto nell'Ipica, però, come dicevi, ci sono anche altre, insomma, ti occupi anche di altro, no? Quindi avete con Leonardo Cecchi il ristorante Fordacqua a Firenze, che comunque è un ristorante, direi, rinomato, no? Sì, sì, sì. Rinomato. Ci sono, insomma, ogni tanto ho avuto il piacere di andarci, comunque ci sono anche personaggi, no? Ogni tanto vengono a trovarti perché comunque è abbastanza conosciuto e poi comunque oltre a quello c'è l'impresa... C'è l'impresa Edile, insomma, siamo un po' poi dopo impegnati un po' in vari campi, diciamo. Però il tuo, insomma, dai comunque, continua a dare spazio, tanto spazio alla... No, bisogna, bisogna, perché come ti ripeto, come ti dicevo prima, un conto è una questione hobbistica e può limitarsi a due, tre cavalli a pensione, uno ti arriva ai conti e ti... E finisci lì. Ma quando c'è da gestire tante cose, fornitori, insomma, c'è tante cose da fare. Ci sono tante cose da fare, quindi ti dedichi tanto. Molto, ci prende molto tempo, ma anche proprio a livello amministrativo, anche proprio in famiglia ci prende molto tempo. Quindi ecco, spazio per altri hobby fuori dall'Ippica, Samuele, cosa ti piace fare? A me piace andare a giocare a tennis. Andare a giocare a tennis. Quindi con Alessandro Gocciadoro? È forte, eh? È forte, eh? È forte, non veramente. Come è andata? È andata male per me, è andata male per me, ma dovrò riprendermi, però... È molto dura, è molto dura. Quindi il tennis è uno sport che... Il tennis è uno sport che mi piace tantissimo, mi piace anche tantissimo seguirlo. Quando c'è Torino le Finals vado sempre. È uno sport molto, molto di testa, oltre a livello fisico, perché te sei lì da solo. Non ci sono appigliati. Non ti puoi appoggiare a nessuno, ti puoi appoggiare a... Sei solo con te stesso. Sei solo con te stesso. Quindi non c'è un niente che ti può aiutare, nessuno ti può riparare. Ti forma molto, ti forma, eh? Sì, sì, mi piace. Quindi, visto che segui il tennis, è un discorso che abbiamo già affrontato, ma un campione tipo Sinner che sta venendo fuori sicuramente aiuta il movimento, no? Porca me! E quindi, ecco, i campioni, cioè i campioni, gli esempi, come è stato Varenne, sono stati sicuramente trainanti, no? Sì, molto trainanti, come quando c'era Alberto Tomba, eravamo tutti sciatori, ora sono tutti tennisti, sono. Speriamo che diventino anche tutti ippici, che continuino, perché dopo Varenne, di cui abbiamo visto appunto il documentario, il docufilm lunedì scorso, che la gente ci basterebbe anche la metà di quelli che stanno seguendo il tennis, per l'ippica, però il campione fa da traino, certo, certo, esatto, fa da traino e bisogna anche saperlo sfruttare, bisogna sfruttare il momento, perché tanti non conoscono nemmeno quello che c'è dietro all'ippica, cioè uno va all'ippone e dice, ma questi che vengono, il sabato e domenico a correre, poi fanno un altro lavoro, cioè non sanno che ogni guidatore è un'azienda, un'azienda che ha fornitori, che ha persone a lavorare e deve seguire l'amministrazione, i partenti, è complicato, è molto complicato. Sembra semplice, ma è difficilissimo. Riuscendo ad aprire alle persone, magari potremmo trovare ancora un po' più di appassionati da seguire. Chiudiamo appunto con Samuele, con appunto, ovviamente ti lascio, facciamo salutare Emanuele Cardona, che ovviamente conosce Emanuele. Domani lo incontro. Domani ti incontra a Roma. Domani ci vediamo, domani ci vediamo, Samuele. Una curiosità prima di chiudere, abbiamo parlato di Pascialesta, che è stato forse il cavallo che ha segnato un po' anche la tua carriera di proprietario, ma anche di appassionato Ippico, l'ha segnato la tua, ma anche quella dei tuoi soci, di Leonardo Cecchi, che è ancora un gran proprietario, ha tanti cavalli importanti anche da Alessandro Cocciadoro, di Stefano Ciappi, Stefano è un amico, secondo me è uno dei più grossi competenti tecnici proprio a livello preparatore, manager, diciamo, italiani, e poi di Olga Relert, il quartetto era quello, c'era anche Olga in società con Pascià. E' ancora, è ancora questo. E' ancora questo. Senti una cosa, non l'avete più preso adesso, a parte nell'immediato penso di sì, adesso non c'è un cavallo che avete tutti insieme, magari non, e che rapporto, Pascialesta vi tiene ancora uniti, ci avete, quelle cose, secondo me sono quelle avventure che rimangono nel cuore, no? Magari poi ci si può, adesso io non so nulla, però ci può essere magari uno screzzo, una cosa, ma poi uno se si ricorda quegli anni là, la carriera di Pascialesta, ricordiamo che Pascialesta è arrivata al derby vincendo tutto, ha vinto tutto dopo, ha vinto in Francia, un cavallo che veramente si sta dimostrando un ottimo papà, perché poi quella non è una cosa scontata, un cavallo che ha dato tanto e continua a dare tanto. No, sicuramente sì, no, ma noi siamo sempre, con Stefano tutti ci sentiamo tutte le volte alle corse, ieri ero a Bologna, sono stato con Olga a parlare, le ho chiesto anche, perché come ho detto prima, mi piace fare l'allenatore, sicché se c'è da chiedere delle indicazioni, gli stavo chiedendo delle indicazioni proprio sui percorsi da fare camminare i cavalli nell'acqua, perché mi ricordo che lui a fine carriera, quando c'aveva Nesta F, faceva questa vasca per allenarsi, perché sicché gli ho chiesto quanto tempo ci devono stare dentro, così, con Leonardo siamo quasi tutti i giorni in contatto, ma più che altro per i cavalli, perché quando si va al ristorante praticamente si parla solo dei cavalli, sicché praticamente Senti, prima di salutarvi, perché il tempo poi stringe, Stefano, oggi corre a Rileste, favorito in una Super Tris a Napoli, cavallo particolare a Rileste, probabilmente non ha espresso tutto il suo potenziale. Ultimamente io non sono mai stato dentro a questo cavallo, è stato un cavallo particolare, ora non sapevo nemmeno che corri, ma speriamo che vinca, almeno. Anche scaramante, non diciamo niente per domani. No, domani è una corsa che mi piace, perché il cavallo ha corso molto bene ultimamente, sicché io vado molto fiducioso. E poi tanto parli con Emanuele, ci pensa lui, ti spiega. Io ho anche un grande tecnico alle spalle, io lo devo ora... No, lo devo ora... C'ho il Farfallini, Gregorio Farfallini, che lui è l'unico, mi dà sempre le ultime indicazioni. Qui comunque Emanuele appunto il tempo stringe, ma torneremo... Sì, sì, quando si può andare a fare anche una passeggiata fuori. Una passeggiata, perché ovviamente è un generoso ospitale, è sempre un piacere. Quindi alle prossime puntate dalla Scuderia dell'Olmo, è tutto in linea alla regia. In linea alla regia.